Bella la storia cantata dell'elefantino Elmer, vero? Diverso ma speciale, come ognuno di noi. Ma sicuramente vi siete chiesti cosa c'entra con la geometria? Scopriamo insieme una parte della storia che nessuno conosce. Mentre Elmer passeggia nella foresta giunge la cascata magica, molto saggia ed esperta di geometria. Ogni volta che qualcuno si specchia nelle sue limpide acque, lei mostra tutta la sua sapienza, svelando al fortunato un segreto geometrico. La cascata dritta diventò, e l'elefantino quindi si specchiò, e ad Elmer qualcosa svelò. Due figure si dicono simmetriche se sono perfettamente sovrapponibili. Elmer, la sua passeggiata continuò, e con gli uccellini della simmetria parlò. Un laghetto, Elmer incontrò, ed ancora si specchiò. Elmer notò la sua figura riflessa e pensò. Questa è la simmetria di cui parlava la cascata. Divertente la storia, vero? Ora, bambini, proviamo insieme. Prendete un foglio a quadretti. Potete scegliere un foglio con quadretti da un centimetro, oppure un foglio con quadretti da mezzo centimetro, come preferite. Tracciate una riga verticale azzurra, che si chiama asse di simmetria. Partendo dall'asse di simmetria, segui il percorso, e disegna Elmer e la sua figura simmetrica. La freccia, accanto ad ogni numero, indica di quanti quadretti ti devi spostare nella direzione indicata dalla punta. Poi colora, facendo attenzione a rispettare il principio della simmetria. Piegate il foglio lungo l'asse di simmetria. Se avete seguito bene il percorso, noterete che Elmer e il suo riflesso si sovrappongono perfettamente, perché sono simmetrici. Leggete con attenzione e completate pagina 82 del vostro libro delle discipline. Ciao ciao, alla prossima avventura!